Con il salone dell'automobile di Parigi arriva la nuova e tanto attesa Renault 4 i-Tec Electric, ma una calandra con due fari rotondi non bastano per chiamarla nuova Renault 4, ecco come penalizzare un'icona degli anni che furono rinunciando ad un'utilitaria versatile in favore dell'ennesimo SUV elettrico. Scomodare certi miti sfruttandone il nome per riproporli in chiave moderna è da non-sense del design. Chiamatela con un altro nome perché con la vecchia e mitica Renault 4 non ha proprio nulla a che vedere. Se poi aggiungiamo che dovrebbe costare intorno ai 30 mila euro, viene da chiedersi quante ne venderanno. La nuova Renault 4 non ricorda la vecchia, soprattutto dal punto di vista estetico, un progetto azzeccato solo nel nome. Il frontale si fa notare grazie alla calandra e la posizione del logo, mentre il design dei gruppi ottici posteriori è una delle poche cose che ricordano l'originale. Anche il tetto vorrebbe riprendere in vano il mitico design del modello storico. Insomma, se ai tempi aveva una sua precisa identità e veniva definita l'auto blue jeans, tanto amata dai figli dei fiori, adesso perde di personalità e potrebbe essere scambiata con altre autovetture. Lunga 4,14 m e pur compatta, si posiziona tra Clio e Captur. Il passo supera i 2,60 m per offrire più spazio a bordo. La larghezza resta contenuta in 1,80 m per circolare in città senza difficoltà. Renault 4 E-Tech Electric sarà commercializzata in tre allestimenti, Evolution, Tecno e Iconic. L'allestimento Tecno nasce sotto il segno dei jeans, è infatti caratterizzato da un tessuto di poliestere riciclato color blue saturo, molto simile ai jeans che si indossano nella vita di tutti i giorni. Nella versione Iconic, i sedili e i poggiatesta abbinano un tessuto con cuciture gialle con un tessuto in parte riciclato e di origine biologica. Renault 4 E-Tech Electric ha una batteria che lavora con un motore con due potenze, da 90 e 110 kW, che garantiscono un'autonomia fino a 400 km. Derivato direttamente dal motore di Megane I-Tech Electric e Scenic I-Tech Electric, il motore da 110 kW di Renault 4 I-Tech Electric è lo stesso già disponibile per Renault 5 I-Tech Electric. In conclusione, questa nuova vettura cerca di cavalcare l'onda nostalgica del passato, ma finisce per tradire l'essenza iconica di Renault 4. Un design che poco ricorda l'originale e un prezzo decisamente alto, fanno sorgere un'unica domanda, vale davvero la pena sacrificare il mito in nome della modernità.